La polizia sta tirando i lacrimogeni. I manifestanti stanno scappando molto in fretta. Non riusciamo a capire da qui. Perché la polizia ha sparato? Non riusciamo a capire. Scusate, il corteo era arrivato, era pacifico. Abbiamo visto da qui, non sono nemmeno volate le pietre. Adesso non si vede più niente, c'è soltanto l'odore dei lacrimogeni. Scusi, perché la polizia ha lanciato i lacrimogeni? Perché si stanno avvicinando, non lo vede, si stanno avvicinando minacciosi i manifestanti. E quindi si cerca di lanciare i lacrimogeni là in mezzo alla gente, così per dissuaderli un pochino. Senta, ma perché minacciosi? Non hanno lanciato pietre, non hanno lanciato... Hanno lanciato delle cose, comunque si vede che hanno degli attrezzi in mano. Quindi i lacrimogeni servono solo per far piangere un pochino la gente, in modo che si vede meno e sicuramente sia un po' meno aggressivi. L'ho lanciato uno, eh! Gli ha sparato in faccia! Se eravamo in una piazzetta, c'era una camionetta, gli siamo arrivati addosso. Io sono arrivato lì, ho solo visto lo spiro così, da dentro la camionetta che mi ha sparato a due colpi in faccia. Ma con la pistola? Con la pistola, vai a vedere il colpo che c'è dentro il cervello adesso! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!